Tra le domande che ho trovato sotto ai video di questa serie dedicata all'energia eolica, il tema più ricorrente è quello che riguarda la bassa velocità del vento. Semplificando, il vento c'è spesso, ma non è mai particolarmente forte. Si può fare qualcosa? La risposta breve è sì, si può fare qualcosa. Spiegare cosa si può fare e come riuscire a farlo è un tantinello più complicato, ma cercherò di semplificare il discorso il più possibile. Per spiegare dov'è il problema, devo prenderla un po' larga. Se ad esempio pensiamo ad una girandola per bambini, pensiamo ad un oggetto che si mette a girare con pochissimo vento. Per farla iniziare a girare basta letteralmente un soffio. Se prendiamo un piccolo anemometro portatile, questo potrà misurare la velocità del vento anche nell'ordine di 0,2 o 0,3 metri al secondo. Per farlo è necessario che quelle velocità inizi già a girare. E fin qui è tutto vero. L'errore logico è pensare che se una cosa gira, allora potremo sempre sfruttare la sua energia. E qui inizia a non essere più tutto vero. C'è del vero, ma non è tutta la verità. Il primo aspetto da comprendere è che quella cosa che gira, il rotore, per girare richiede se stesso una forza. Una girandola o un anemometro non devono far altro che girare. La forza necessaria per farli partire è quella sufficiente a battere la loro inerzia e l'attrito del loro mozzo. L'inerzia dipende dalla massa. E parliamo di oggetti da pochi grammi. Una volta che il movimento è iniziato, l'inerzia sarà vinta e dovranno vincere soltanto l'attrito. Questi due oggetti che girano così facilmente non devono fare alcun lavoro utile se non girare. Anche l'anemometro. La sua velocità di rotazione viene spesso rilevata da un sensore ottico che non interferisce con la rotazione. Ciò nonostante, anche se non fanno alcun lavoro utile, è sufficiente sfiorarli con una piuma per farli fermare. Non hanno forza. Vediamo perché. La forza di un rotore, uno qualsiasi, anche quello di una girandola o un anemometro, dipende da quanto vento può catturare. Cioè dalla superficie che oppone al vento e dalla velocità del vento stesso. C'è una relazione diretta tra questi fattori e la potenza che possiamo attingere da un rotore. A parità di vento, la potenza è direttamente proporzionale alla superficie. A parità di vento però. Perché a parità di superficie la potenza è proporzionale al cubo della velocità. Non ripeterò ancora la formula che esprime questa relazione. L'ho già detto in troppi video e poi finisce che mi chiedono i diritti. Scherzi a parte. Ora non ci serve la formula. Ora ci serve il ragionamento che c'è a monte. Se io ho un rotore con una superficie di un metro quadro, con un vento di 10 metri al secondo avrò una certa potenza. Diciamo 500 watt per arrotondare. Con un vento di 5 metri al secondo non avrò 250 watt. Ma ne avrò circa 62 e mezzo. E con un vento di 3 metri al secondo ne avrò solo 13. 4 watt con 2 metri al secondo. E questi sono valori teorici che non tengono conto dell'efficienza del rotore e del generatore che ci sarà attaccato. Dalla potenza rotore poi va anche sottratta quella che serve al rotore stesso per continuare a girare. Questi non sono problemi insormontabili quando si costruisce un generatore eolico progettato per le basse velocità del vento. Poi lo vedremo. Ma sono un grosso problema quando si vuole comprare un generatore eolico commerciale. Apro una parentesi sulle macchine commerciali e poi torno sul discorso. Quando si guardano le specifiche di un generatore commerciale c'è sempre scritta la velocità di innesco, cioè quella a cui inizia a girare. Quasi mai però specificano che a quella velocità la potenza utile è quasi nulla. Questo avviene per due motivi. Il primo è quello che abbiamo appena visto. Poca velocità del vento è uguale a poca forza. Il secondo dipende dalla macchina elettrica, cioè dall'alternatore o la dinamo che produce l'elettricità. Negli alternatori a magneti permanenti la tensione di uscita è quasi direttamente proporzionale alla velocità di rotazione. Se girano alla metà del regime per cui sono stati progettati daranno la metà della tensione. Entro certi limiti i regolatori di carica possono innalzare la tensione fino a livelli accettabili, ma non possono fare miracoli. In particolare tra quelli più economici che spesso vengono forniti con i generatori olici economici, quasi nessuno funziona con tensioni di ingresso inferiore ai 6 volt. Quindi, pur accettando le basse potenze ottenibili con un vento a bassa velocità, se si intende utilizzare un generatore commerciale nato per lavorare a 10-12 metri al secondo, quando il vento è solo a 3-4 metri al secondo, sarà necessario prenderne uno con una tensione almeno doppia di quella prevista per l'impianto. Per intendere, se l'impianto è previsto per lavorare a 24 volt, sarà meglio prendere un generatore con una tensione di almeno 48. Se la tensione dell'impianto è di 48 volte, sarà meglio un alternatore con una tensione nominale di almeno 96. È molto più facile gestire tensioni troppo alte che troppo basse. Ho un paio di amici afflitti da questo problema. Non conoscendolo, si sono trovati con alternatori con una tensione di uscita troppo bassa rispetto a quella attesa. Il problema si può risolvere, ma sono spese aggiuntive ed uno spreco di energia. Perché anche i dispositivi che correggono questo problema consumano un po' di energia. Ma ne parlerò in un video specifico. Chiusa la parentesi sulle macchine eoliche commerciali. Torniamo alle macchine eoliche nate per lavorare con bassa velocità del vento. Alla luce di quanto visto finora, se si può disporre di una buona quantità di ore di vento a bassa velocità, si può pensare di sfruttarlo per produrre elettricità. Anzitutto, una precisazione. Come abbiamo visto, è possibile fare qualcosa che gira anche con poco vento, ma la potenza che ne possiamo estrarre per ogni metro quadro di superficie di rotore diventerà ridicolmente piccola già a 3 metri al secondo. Quindi, iniziamo a mettere un primo paletto alle specifiche del nostro progetto. Non ha molto senso parlare di utilizzare il vento se questo non è almeno di 3 metri al secondo. Meglio se 4. A meno che non lo si faccia a scopo didattico, solo per dimostrare che è possibile farlo. Mettiamo un secondo paletto. Con 4 metri al secondo di velocità si possono, in teoria, ottenere circa 32 watt di potenza per ogni metro quadro. In pratica, sono poco più della metà, diciamo 18. Questo vuol dire che se il vento ci fosse sempre 24 ore su 24, arriveremmo a produrre 432 wattora al giorno. Ci vogliono circa 2,5 metri quadri di superficie di rotore per ottenere un solo chilowattora al giorno, se il vento c'è sempre. Quindi, non ha senso pensare di usare il vento se non c'è per davvero molte ore al giorno, 12 o più. Oppure, se abbiamo problemi di ingombro. Perché? Per produrre energia utile, avremo bisogno di rotori grandi. Quindi, produrre energia eolica quando c'è poco vento è possibile, ma bisogna prima di tutto considerare a quale scopo la si produce. Se l'intenzione è quella di alimentare piccoli dispositivi o di aiutare a mantenere carica una batteria quando non la si può caricare diversamente, allora ha un senso. Pensare di alimentare un impianto domestico con meno di 4 metri al secondo di vento richiede rotori davvero molto grandi. Un rotore di 3 metri di diametro a 4 metri al secondo supera di poco i 100 watt utili. Se questa potenza è rilevante nel nostro bilancio complessivo, allora sì, ha un senso. Ho intenzione di presentare presto il progetto di una macchina da una cinquantina di watt in grado di dare qualcosina anche alle basse velocità del vento. Poco più di un giocattolo, ma come vedremo in seguito, non del tutto inutile. Per il momento è tutto. Ringrazio dell'attenzione e... alla prossima! Ringrazio dell'attenzione e... Ringrazio dell'attenzione e... Ringrazio dell'attenzione e...